Ragazzi mi hanno detto che la nuova Ford Fiesta non mi stupirà solo per le sue linee mozzafiato ma anche e soprattutto per le sue dotazioni di sicurezza degne di una vettura in segmento superiore Sarà vero? A giudicare dall'elenco sembra proprio così Si comincia con il Bliss, sistema di sorveglianza dell'angolo cieco e poi il Driver Alert, un sistema che avvisa il conducente quando è il momento di fare una pausa Che ne dite del Traffic Sign Recognition? È un sistema che riconosce la segnaletica stradale verticale della strada che state percorrendo E poi il Pre Collision Assist con Pedestrian Detection Il sistema che aiuta il conducente a evitare collisioni frenando automaticamente in caso si presenti il rischio di incidente o di investire una persona che sta attraversando E poi state seduti L'Active Park Assist è un sistema che aiuta il conducente nelle manovre di parcheggio gestendo in autonomia il volante per entrare e uscire da spazi in parallelo o perpendicolari Voi dovete solo frenare e accelerare E chiudiamo con l'Adaptive Cruise Control che permette di impostare una certa velocità di crociera e una certa distanza dal veicolo che precede Gli abbaglianti ovviamente automatici E il Lane Keeping System composto dal Lane Departure Warning che avvisa con la vibrazione del volante quando c'è uno spostamento involontario della corsia e dal Lane Keeping Aid che agisce nel caso in cui il conducente non reagisca per riportare la vettura all'interno della corsia di appartenenza Vi basta? E pensate ragazzi che il Lane Keeping System è già disponibile di serie sulla versione Plus Fate come me, fate un salto per conoscere meglio l'universo della nuova Fiesta in una delle tre sedi di Interauto a Monza, Melegnano o Liscate in una delle tre sedi di Interauto a Monza, Melegnano o Liscate